Al comando si porta Sei Tu nei confronti di E-Rapper che lo affianca all'esterno in terza posizione Dogana davanti a Corten che lascia in coda edizione limitata, un po' incerto al BIA. Cavalli ora lungo la curva con Sei Tu che prosegue al comando tallonato da E-Rapper, in terza posizione Corten che lascia più indietro Dogana e più staccato insegue edizione limitata. Siamo in retta di arrivo con Sei Tu all'osteccato, E-Rapper che si propone all'attacco tallonata da Corten. E-Rapper attacca Sei Tu e ora sta passando dietro i due figura Corten, E-Rapper in leggero vantaggio nei confronti di Sei Tu che cerca di reagire all'interno. I due sono in lotta nei confronti di Corten nel tratto conclusivo, E-Rapper in leggero vantaggio, Sei Tu ci prova all'interno ma E-Rapper mantiene la meglio fin sul palo su Sei Tu al terzo posto Corten. Andiamo a rivedere le immagini con E-Rapper Salvo Basile per i colori della scuderia Colle Papa, bersaglio in questa prima corsa di Agnano, numero 5 dello schieramento, al posto d'onore il 7 di Sei Tu. Mentre leggermente più indietro al terzo posto conclude il 2 di Corten, 5-7-2, quindi il probabile ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli.